Questa, questa è una nuova collezione indonesia loro hanno paper money e coins loro hanno anche i centesimi i bucchiettenamidi non hanno centesimi 1500 questa questa è la più vecchia questa è la più giovane 200 100 questo 1000 molto vecchia molto vecchia e il più grande è 100.000 i più grandi soldi sono 100.000 come si può vedere da questo zoom del 2010 questi sono 2014 ci sono le annate in different years quindi sono le annate diverse e e le 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 Molto leggera, 2003 L'ultimo 2003 Questa è molto vecchia Questa è la più vecchia